Sono in diretta streaming, però dico. Io ho parlato con Marina. Poi, chiamo attento con il numero di Maria, perché Maria disse che deve vedere le date. Perché Marina gli deve dare il numero della regione, perché è chi non c'entra, la regione. In diretta streaming da Fontanaliri per l'arrivo della visita della Madonna di Canneto. In diretta streaming. Danilo! Danilo! E' a casa mia. Buonasera, qui. No, no, domani farà freddo, ma non dovrebbe piove. E la mettiamo sopra le pagine. 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 Grazie. 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 Lo seguo per la Fontana Superiore, la cisa di Santo Stefano. Grazie. 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 Grazie a voi. Grazie a voi. che è stata la messa poi fino alla messa i nensi stavano a mettere la madonna sui camion e loro ne partivano però mentre la bullone, mentre la panna mentre la panna... no, non la faccio scendere però no, no, sta a dire che... la dove stanno... grazie